Un gol all'Irlanda del Nodo e ieri un gol alla Slovacchia. Mario Gomez è sempre più al centro del progetto Germania. Gomez è ancora però sotto contratto con la Fiorentina. Non tornerà, è già deciso, però adesso sarà più facile venderlo. La Fiorentina ci contava e gli europei si confermano un'occasione soprattutto per vendere. Ora tocca alla società Viola trovare una soluzione. Per la sua cessione potrebbe volere 3-4 milioni. Intanto i fiorentini si preparano alla visione della super partitona di stasera. Alle 18 la sfida con la Spagna. Dal mercato centrale a fashion footballer, dai bar sparsi per la città, tutti offrono i loro schermi. Qualcuno maxi, qualcuno un po' meno per la partita match decisivo degli europei. Deciderà infatti se gli azzurri di Conte potranno continuare il loro cammino francese oppure si fermeranno qui.